Ecco, qui vedete la cornice finita, quindi l'ho tutta rintagliata con queste sgorbie qui, principalmente ho usato questa tonda e anche le altre. Vedete questi piccoli truccioli che ci sono qui, è come se fossero di legno, perché in realtà la pasta di legno è al 90% costituita da legno, sono farine di legno che vengono mescolate con dei prodotti chimici. Qui vedete la qualità dell'intaglio, che comunque è molto vivo, ben spigoloso ed è molto piacevole. Adesso il prossimo passaggio qui è dargli una mano di carta vetrata per togliere tutte le imperfezioni, poi successivamente gli verranno date due mani di gesso e sopra il gesso verrà dorato. Grazie, arrivederci.